Capitolo 18 Fino a quel momento Coriolanus aveva agito come se la questione della tassa sulla casa non esistesse, ma ora la concreta possibilità di uno sdradicamento della famiglia lo travolse come un camion in corsa. Come avrebbe potuto dire addio all'unica casa che avesse mai conosciuto? A sua madre, alla sua infanzia, a tutti i dolci ricordi della sua vita prima della guerra. Quelle quattro mura non si limitavano a tenerli al sicuro dal resto del mondo. Proteggevano la leggenda della ricchezza degli Snow. In un colpo solo avrebbe perso la sua casa, la sua storia e la sua identità. Avevano sei settimane per trovare i soldi, per mettere insieme l'equivalente delle entrate di un anno di tigris. I due cugini provarono a fare una stima di quello che ancora potevano vendere. Ma anche se avessero dato via ogni singolo mobile o cimelio, il ricavato avrebbe coperto al massimo qualche mese. E i bollettini avrebbero continuato ad arrivare a scadenze regolari, puntuali come un orologio. Tutti i soldi che potevano ottenere dai loro miseri beni sarebbero serviti per affittare una nuova casa. Uno sfratto per problemi fiscali doveva essere evitato a tutti i costi. Il disonore sarebbe stato troppo grande, incancellabile. Perciò dovevano andarsene. «Cosa faremo?» chiese Coriolanus. «Niente finché gli Hunger Games non saranno finiti. Devi concentrarti su quello per poter vincere il premio Plint, o almeno l'altro. Di questo mi occupo io», rispose Tigris in tono deciso. Gli preparò una tazza di latte caldo con sciroppo d'acero e gli accarezzò la testa che pulsava fino a farlo addormentare. Coriolanus sognò cose violente, inquietanti, rivedendo gli eventi dell'arena. Poi si svegliò al solito modo. «Gemma di Panem, città potente, nei secoli tu splendi ancora!» La signora nonna avrebbe cantato ancora, di lì a un mese o due, nel loro appartamentino in affitto. O sarebbe stata troppo umiliata per far sentire di nuovo la sua voce? Il pensiero lo rattristava, nonostante avesse deriso per anni quel concerto mattutino. Mentre si vestiva, i punti sul braccio si fecero sentire, ricordandogli che avrebbe dovuto passare dalla cittadella per un controllo. Sul viso escoriato si erano create delle croste rosso scuro, ma il gonfiore si era ridotto. Ci mise sopra la cipria di sua madre, che per quanto inutile, lo confortò un po' con il suo profumo. La loro disperata situazione finanziaria gli fece accettare i gettoni offerti da Tigris senza un attimo di esitazione. Perché preoccuparsi di contare le monetine quando le banconote erano sparite tanto tempo prima? Sul tram ingurgitò il burro d'arachidi spalmato sui cracker salati, tentando di non paragonarli ai panini freschi della colazione di Ma Plint. Lo sfiorò il pensiero che, avendo salvato Sejanus, i Plint avrebbero potuto magari fargli un prestito, o addirittura pagarlo per il suo silenzio. Ma la signora nonna non lo avrebbe mai permesso, e l'idea che uno Snow si umiliasse davanti a un Plint era fuori questione. Il premio Plint, al contrario, era un obiettivo legittimo, e Tigris aveva ragione. I giorni a seguire avrebbero deciso il suo futuro. All'Accademia i mentori sorbirono il loro tè e si prepararono per le telecamere. Ogni nuovo giorno li sottoponeva a sguardi sempre più indagatori. Gli strateghi avevano mandato una truccatrice, che riuscì a schiarire le croste di Coriolanus, e già che c'era, a dare una forma alle sue sopracciglia. In quel momento, nessuno sembrava dell'umore giusto per discutere dei giochi, a parte Ilarius Evansby, che non era capace di parlare d'altro. Per me è diverso, disse. Ieri sera ho controllato i miei appunti. Ogni singolo tributo rimasto ha ricevuto del cibo, o almeno dell'acqua, da quando si trova nell'arena. A eccezione della vecchia, non mi faccio vedere uovi. Dove diavolo è? Voglio dire, come posso sapere se non è semplicemente andata a morire in uno di quei tunnel? Magari è già cadavere, e io me ne sto qui come un cretino a giocherellare con il bracciale comunicatore. Coriolanus avrebbe voluto dirgli di chiudere il becco, perché c'era chi aveva dei veri problemi, ma preferì manovrare in modo da sedersi all'estremità della fila, vicino a Festus, immerso in una conversazione con Persefone. Lucky Flakerman aprì la trasmissione ricapitolando i tributi rimanenti, e invitando Lepidus a raccogliere i commenti del gruppo dei mentori. Coriolanus venne subito chiamato a rispondere a proposito dei timori scatenati da Jessup. Il suo primo pensiero fu congratularsi con Lisistrata per l'ottima gestione della situazione riguardante la rabbia di Jessup e ringraziarla per la generosità dimostrata negli ultimi istanti di vita del suo tributo. Poi si girò verso la zona in cui sedevano i mentori dei caduti, le chiese di alzarsi, e invitò al pubblico a farle un applauso. Gli spettatori non si limitarono ad assecondare la richiesta, anzi, almeno metà di loro si levò in piedi, e per quanto Lisistrata sembrasse imbarazzata, Coriolanus pensò che quell'omaggio in fondo non le dispiacesse. Poi aggiunse che sperava di ringraziarla adeguatamente, facendo avverare il suo pronostico, ovvero la vittoria di un tributo del distretto 12, Lucy Gray. Il pubblico poteva vedere con i propri occhi quanto fosse stata in gamba. E non doveva dimenticare che era rimasta al fianco di Jessup fino all'amara conclusione. Ancora una volta, quello era il comportamento che ci si aspettava da una ragazza di Capitol City, ma da una dei distretti. Era un aspetto su cui riflettere, quanto gli spettatori premiassero il carattere nel vincitore degli Hunger Games, quanto Lucy Gray rispecchiasse i loro valori. Qualcosa nelle parole di Coriolanus doveva aver colpito il pubblico, perché dal suo bracciale comunicatore si levarono subito almeno dieci tintinni. Lui lo sollevò, perché fosse inquadrato dalla telecamera, e ringraziò i generosi sponsor. Quasi non riuscisse a sopportare che a Coriolanus fosse riservata tanta attenzione, Cucciolo si sporse sulla sedia per annunciare a gran voce che sarebbe stato meglio procurare la colazione alla mina, e ordinò una pioggia di cibo e bevande. Nessun altro poteva competere, dal momento che la mina era l'unico tributo visibile nell'arena, perciò quello era l'ennesimo modo in cui Cucciolo riusciva a rendersi seccante. Coriolanus fu molto soddisfatto nel notare che dal bracciale del suo avversario non giungevano nuovi tintinni. Sapendo che non sarebbe stato chiamato di nuovo finché non fossero finite le interviste degli altri, Coriolanus assunse un atteggiamento interessato, ma senza prestare davvero ascolto alle presentazioni da imbonitore dei suoi compagni. L'idea di avvicinare Strabo Plint per procurarsi soldi, senza ricattarlo, chiaro, solo offrendogli la possibilità di ringraziarlo con un regalo in moneta sonante, continuava a tormentarlo. E se fosse passato dai Plint per informarsi sulla salute di Sejanus? La sua gamba aveva subito una brutta ferita. Sì. E se fosse semplicemente passato di là per poi vedere cosa succedeva? Lucky interruppe le riflessioni di Io su quello che Sirk poteva fare con il drone. Beh, se i diodi a emissione luminosa non sono guasti, forse sarà in grado di fabbricare una specie di torcia, e questo gli darebbe un grande vantaggio durante la notte, per attirare l'attenzione del pubblico sulla comparsa di Mortifer dalla barricata. La mina, che aveva raccolto acqua, pane e formaggio portati da cinque o sei droni, allineò ordinatamente le sue scorte sulla traversa. La ragazza mostrò di aver notato a malapena l'ingresso del rivale, ma Mortifer marciò deciso verso di lei. Indicò il sole e poi il viso di la mina. Coriolanus si accorse per la prima volta del prezzo che stava pagando la sua pelle per quei lunghi giorni all'aperto. Aveva delle brutte scottature e il naso spellato. Guardando con attenzione, poi, era possibile vedere che anche le sue caviglie erano arrossate. Mortifer indicò il cibo. La mina si sfregò un piede e parve valutare l'offerta del ragazzo, qualunque fosse. Fecero un po' di tira e molla, quindi annuirono entrambi in segno di approvazione. Mortifer attraversò l'arena al piccolo trotto e si arrampicò fino alla bandiera di Panem. Tirò fuori il suo lungo coltello e con un colpo lacerò il tessuto pesante. Rumorose proteste si levarono dagli spettatori presenti nella sala. Quel disprezzo per la natura sacra della bandiera nazionale li turbava nel profondo. Quando Mortifer cominciò a tagliare la bandiera, ricavandone un pezzo di stoffa grande quanto una piccola coperta, il disagio aumentò. Senza dubbio quell'azione non sarebbe stata ignorata. Senza dubbio il ragazzo sarebbe stato punito in qualche modo. Ma poiché gli Hunger Games erano già la massima punizione, nessuno sapeva come. Lepidus si affrettò a raggiungere Clemenzia per chiederle cosa pensasse del comportamento del suo tributo. «Beh, è una mossa stupida, no? Adesso chi gli farà più da sponsor?» «Non che abbia importanza, visto che non gli mandi mai niente da mangiare», si aggiunse Cucciolo. «Gli manderò da mangiare quando farà qualcosa che lo meriti», replicò Clemenzia. «E comunque credo che oggi abbia già provveduto tu». Cucciolo si accigliò. «Io». Clemenzia accennò allo schermo che mostrava Mortifer di ritorno alla traversa. Tra lui e la mina ci fu un'ulteriore trattativa. Poi, apparentemente dopo aver contato fino a tre, Mortifer lanciò il ritaglio di bandiera arrotolato, mentre la mina faceva cadere un pezzo di pane. La bandiera non arrivò abbastanza in alto da permettere alla ragazza di afferrarla. Seguirono quindi altre contrattazioni e quando Mortifer riuscì finalmente a tirargliela dopo svariati tentativi, lei lo ricompensò con un grosso pezzo di formaggio. Non era un'alleanza ufficiale, ma lo scambio parve creare un minimo di legame tra i due. In effetti, mentre la mina scuoteva la bandiera e ci si copriva la testa, Mortifer si sedette contro uno dei pali a mangiare. Non si rivolsero più la parola, ma su di loro calò una relativa serenità e quando il branco apparve dalla parte opposta dell'arena, la mina lo segnalò all'altro. Mortifer le fece un cenno di ringraziamento, poi si ritirò dietro alla barricata. Coral, Mizzen e Tanner si accomodarono sulle tribune e fecero dei gesti con cui chiedevano cibo. Festus, Persefone e Domizia li assecondarono e i tre tributi si divisero pane, formaggio e miele consegnati dai droni. La trasmissione si spostò di nuovo nello studio, dove Lucky aveva portato il suo pappagallo, Jubilee, e trascorso parecchi minuti tentando di convincerlo a dire ciao bello al decano Highbottom. Il volatile, una creatura depressa in lotta con la rogna, rimaneva in silenzio, appollaiato sul polso di Lucky, mentre il decano aspettava con le mani in mano. Dai, dillo! Forza! Ciao bello! Ciao bello! Non credo abbia voglia di farlo, Lucky, osservò Highbottom dopo un po'. Forse non mi trova per niente bello. Cosa? Ah no, è solo timido con gli stranei. Tese il pappagallo verso il decano. Vuole tenerlo? L'altro si fece indietro. No. Lucky tornò a portarsi al petto Jubilee e gli accarezzò le piume con la punta di un dito. Allora, decano Highbottom, cosa ne pensa di tutto questo? Tutto cosa? Tutto. Tutto quello che sta succedendo negli Hunger Games. Lucky agitò la mano nel vuoto. Tutto questo? Beh, ciò che sto notando è la nuova interattività dei giochi, disse il decano. Lucky a noi. Interattività? Vada avanti. Fin dall'inizio, anzi ancora prima, quando ci sono state le esplosioni nell'arena. Le bombe non hanno solo eliminato alcuni partecipanti, hanno modificato lo scenario. Modificato lo scenario? Ripete Lucky. Sì, adesso abbiamo lo sbarramento, cioè la barricata. La traversa. Accesso ai tunnel. È un'arena del tutto nuova che ha spinto i tributi a comportarsi in un modo del tutto nuovo, spiegò il decano. E abbiamo i droni, esclamò Lucky. Proprio così. Ormai il pubblico è parte attiva dei giochi. Highbottom inclinò la testa verso Lucky. E lei sa cosa significa? Cosa? Domandò il conduttore. Il decano pronunciò ad agio le parole successive, come se si rivolgesse a un bambino. Significa che siamo tutti insieme nell'arena, Lucky. L'altro si accigliò. Continuo a non capire. Highbottom si diede qualche colpetto sulla tempia con l'indice. Ci pensi? Ciao, bello! Starnazzò giubili con poco entusiasmo. Oh, ecco qua! Gliel'avevo detto, no? Si vantò Lucky. Sì, l'aveva detto, ammise il decano. Però è stata comunque una sorpresa. Prima dell'ora di pranzo non accadde molto altro. Lucky fece il bollettino meteo distretto per distretto, con lo stimolo aggiuntivo di giubili, che tuttavia si rifiutò di parlare di nuovo. Ragion per cui Lucky cominciò a parlare al suo posto con una vocetta acuta. Come ti sembra il tempo nel distretto 12, giubili? Eh, fa proprio freddo, Lucky. Freddo in luglio, giubili? Sicuro? Freddo come uno snow. Coriolanus rivolse il pollice alzato alla telecamera quando staccò su di lui per riprendere la sua reazione. Non riusciva a credere che quella fosse la sua vita. Il pranzo fu deludente, visto che il menù prevedeva panini al burro di arachidi e lui aveva mangiato burro d'arachidi anche a colazione. Li prese comunque perché consumava tutto quello che era gratis e perché era importante che si mantenesse in forze. Un mormorio attraversò la sala, a indicare che sullo schermo stava accadendo qualcosa, e lui si affrettò a riprendere posto. Che Lucy Gray fosse emersa dal suo nascondiglio? No, lei non c'era, ma la pigrizia mattutina del branco aveva lasciato il posto alla determinazione. I tre tributi attraversarono l'arena a grandi passi, fino a trovarsi proprio sotto la traversa di la mina. In un primo momento lei non ci fece caso, ma la lama della spada di Tanner che colpiva uno dei pali attirò la sua attenzione. La mina si mise seduta e osservò attentamente il branco. Doveva aver avvertito un cambiamento di atmosfera, perché tirò fuori la scura e il coltello, e li lucidò con la bandiera. Dopo un breve conciliabolo durante il quale i tributi del distretto quattro lasciarono a Tanner i loro tridenti, il trio si divise. Coral e Mizzen si diressero verso i pali di metallo che reggevano la traversa, e Tanner si piazzò proprio sotto la mina con i due tridenti in mano. I coltelli stretti tra i denti, Coral e Mizzen si fecero un cenno, e cominciarono a hissarsi ognuno su un palo. Festus si spostò sulla sedia. Ci siamo! Non ce la faranno mai, disse Cucciolo, tutto agitato. Sono addestrati a lavorare sulle navi. Arrampicarsi sulle funi fa parte del mestiere, sottolineò Persefone. Sul sartiame, precisò Festus. Sì, ho capito. Mio padre è un comandante di marina, dopo tutto, replicò Cucciolo. Arrampicarsi sulle funi è diverso. I pali somigliano di più ad alberi. Ma Cucciolo aveva fatto innervosire tutti, e anche i mentori che non avevano un tributo coinvolto nello scontro parvero impazienti di commentare. E gli alberi maestri, allora? Chiese Vipsania. O i pennoni, intervenne Urbanus. Non ce la faranno, ripete Cucciolo. Ma per quanto non avesse lo stile fluido di Lamina, la coppia del distretto quattro ce la stava facendo e come, e si sava pian piano sempre più in alto. Tanner li guidava da sotto, dicendo a Coral di aspettare un attimo quando Mizen rimaneva indietro. Guardate, si sincronizzano per arrivare in cima insieme, notò io. Vogliono spingerla a scegliere contro chi combattere, in modo che l'altro arrivi sulla traversa. Allora lei ne ucciderà uno e poi si calerà giù, disse Cucciolo. Dove troverà Tanner ad aspettarla, gli ricordò Coriolanus. Questo lo so, ribatté Cucciolo. Cosa vi aspettate che faccia? Non è come se avessero la rabbia e ci fosse una soluzione semplice, tipo mandare là dell'acqua. A te non sarebbe mai venuto in mente, osservò Festus. Sì, invece, scattò Cucciolo. Chiudete il becco. Tutti quanti. Calò il silenzio. Coral e Mizen si stavano avvicinando alla cima. La mina guardava ora l'uno, ora l'altra, mentre decideva chi affrontare. Alla fine si diresse verso Coral. No, non la ragazza, il ragazzo, esclamò Cucciolo balzando in piedi. Adesso dovrà combattere contro di lui sulla traversa. Io avrei fatto la stessa cosa. Non mi andrebbe proprio di combattere contro quella ragazza là sopra, disse Domizia, ed alcuni mentori si levarono dei mormorii di assenso. No. Cucciolo ci pensò su. Forse hai ragione. La mina arrivò all'estremità della traversa e, senza esitare, calò la scure su Coral, mancando di un soffio il cuoio capelluto, ma tagliandole un ciuffo di capelli. Coral si ritrasse, scendendo di un metro circa, però la mina tornò a colpirla più volte, giusto per mettere le cose in chiaro. Come previsto, questo diede a Mizen il tempo necessario per salire sulla trave, solo che quando Tanner gli lanciò il tridente da sotto, l'arma arrivò a due terzi dell'altezza e ricadde al suolo. La mina sferrò un ultimo fendente a Coral, poi si spostò rapida verso Mizen. Il ragazzo non poteva competere con la sua sicurezza sulla traversa e riuscì a fare solo qualche passo incerto, mentre lei lo raggiungeva. Tanner andò meglio con il secondo lancio, ma il tridente rimbalzò contro la parte inferiore della trave e finì a terra. Accovacciato per cercare di recuperare l'arma, Mizen si raddrizzò proprio nell'istante in cui la mina gli arrivava addosso, centrandogli l'esterno del ginocchio con la parte piatta della scure. La violenza del colpo sbilanciò entrambi. Ciò nonostante, mentre lei si riprendeva mettendosi a cavalcioni della trave, Mizen perse l'equilibrio, gli sfuggì il coltello di mano e riuscì a salvarsi solo restando appeso per un braccio. Persino l'impianto audio dell'arena rilevò il grido di guerra di Coral quando raggiunse la cima. Tanner corse dalla parte della ragazza e riuscì a lanciarle il tridente. La facilità con cui Coral agguantò l'arma a mezz'aria suscitò esclamazioni ammirate tra gli spettatori di Capitol City. La mina rivolse un'occhiata a Mizen che si trovava in una condizione di impotenza tale da non rappresentare una minaccia immediata, quindi si voltò, preparandosi a fronteggiare l'attacco. La mina aveva un equilibrio migliore, però Coral disponeva di un'arma con un maggior raggio d'azione. Dopo essersi fatta parare i primi colpi dalla scura di la mina, Coral agitò il tridente con un movimento sinuoso che distrasse l'avversaria, poi glielo affondò nello stomaco. Lasciò andare l'arma e indietreggiò, impugnando al suo posto il coltello, ma non ebbe bisogno. La mina precipitò dalla trave e morì all'istante. «No!» gridò Cucciolo e il monosillabo riecheggiò per tutta Heavensby Hall. Rimase immobile per un lungo istante, poi prese la sua sedia e abbandonò la zona dei Mentori senza badare al microfono teso di Lepidus. Sbatté con violenza la sedia vicino a quella di Livia e uscì a grandi passi dalla sala. Coriolanus immaginò che si stesse sforzando di non piangere. Percorsa la traversa fino a dove era grappato per un braccio Mizen, Coral rimase in piedi sopra di lui per un attimo inquietante, durante il quale Coriolanus si chiese se non stesse pensando di assestargli un calcio al braccio e spedirlo a fare compagnia alla mina. Alla fine invece la ragazza si sedette a cavalcioni sulla trave, incrociando le gambe per reggersi, e lo aiutò a mettersi in salvo. La scure gli aveva danneggiato il ginocchio, anche se era difficile valutare fino a che punto. Il ragazzo scese lungo il palo, in parte scivolando e in parte calandosi, tallonato da Coral, che raccolse il tridente inutilizzato da terra dove Tanner lo aveva lasciato. Mizen si appoggiò al palo mentre si controllava il ginocchio. Dopo aver eseguito una specie di balletto intorno al corpo di la mina, Tanner raggiunse saltellando gli altri due. Con un gran sorriso Mizen sollevò le mani per batterle contro le sue in segno di vittoria. Tanner si era appena avvicinato, quando Coral gli piantò il tridente nella schiena. Lui cadde in avanti addosso a Mizen, che, sostenuto dal palo, lo allontanò con uno spintone. Tanner ruotò su se stesso, dando inutili manate all'indietro come per staccare il tridente, ma i rebbi taglienti erano penetrati a fondo. Cadde in ginocchio, l'espressione più ferita che sorpresa, e crollò a terra faccia in giù. Mizen lo finì con una coltellata al collo. Poi tornò a sedersi contro il palo, mentre Coral strappava una striscia di stoffa dal pezzo di bandiera di la mina e cominciava a fasciargli il ginocchio. Nello studio, la faccia di Lucky si allungò in una comica maschera di sgomento. «Avete visto quello che ho visto io?» Domizia aveva radunato in silenzio le sue cose, le labbra strette in una smorfia di delusione. Quando però Lepidus le mise davanti il microfono, parlò con voce calma e distaccata. «È una sorpresa. Pensavo che Tanner potesse vincere. Ed è probabile che sarebbe accaduto se i suoi alleati non lo avessero tradito. Credo sia proprio questo il punto. Fate attenzione alle persone di cui vi fidate». «Dentro e fuori dall'arena», aggiunse Lepidus annuendo con aria saggia. «Ovunque», confermò Domizia. «Tanner aveva un'indole molto buona e il distretto quattro se n'è approfittato». Lanciò uno sguardo triste a Festus e Persefone, lasciando intendere che quell'azione si ripercuoteva negativamente su di loro. E Lepidus schioccò la lingua in segno di disapprovazione. «È una delle tante cose che ho imparato come mentore negli Hunger Games. Conserverò per sempre la mia esperienza qui e faccio i miei migliori auguri ai compagni rimasti». «Bendetto, Domizia. Credo tu abbia appena dimostrato ai tuoi compagni d'avventura cosa significa saper perdere», concluse Lepidus. «Lucky?» Lo stacco mostrò Lucky che tentava di far scendere giubili dal lampadario attirandolo con un cracker. «Cosa c'è? Non devi parlare anche con quell'altro? Com'è che si chiama?» «Il figlio del comandante di Marina». «Si è rifiutato di commentare», rispose Lepidus. «Bene, torniamo allo spettacolo», gridò Lucky. «Ma lo spettacolo era finito, almeno per il momento». Coral terminò di fasciare il ginocchio di Mizzen e raccolse i tridenti, strappandoli dai corpi delle vittime. Mizzen zuppicava mentre la coppia attraversava l'arena senza fretta per raggiungere il suo tunnel. Satiria si avvicinò per dire ai mentori di risistemare le sedie in due file ordinate da 4. Io, Urbanus, Clemenzi e Vipsania davanti. Coriolanus, Festus, Persefone e Ilarius dietro. Il gioco delle sedie proseguiva. Forse l'umiliazione di essere il pupazzo di Lucky aveva superato il segno, perché giubili si ostinava a non voler scendere dal lampadario. Lucky fu quindi costretto a fare affidamento per la trasmissione sui corrispondenti da Heavensby Hall e dal piazzale davanti all'arena, dove la folla si era suddivisa in settori che ospitavano i fan dei vari tributi. La squadra che appoggiava Lucy Gray era ben rappresentata da giovani e anziani, uomini e donne e persino da un gruppetto di senza voce. Ma quelli non contavano, perché erano stati portati lì per reggere i cartelli. Coriolanus avrebbe voluto che Lucy Gray potesse vedere quante persone le volevano bene. Avrebbe voluto che sapesse in che modo lui l'aveva sostenuta. Era diventato più attivo in questo senso. Si era fermato a parlare con Lepidus nei momenti di calma, esaltando Lucy Gray. Il risultato era che i doni degli sponsor avevano raggiunto un nuovo record, perciò lui si sentiva sicuro di poterla sfamare per una settimana. Ormai non c'era nient'altro da fare se non guardare e aspettare. Trich uscì allo scoperto il tempo necessario per sgraffignare la scura di lamina e farsi rifocillare da Vipsania. Tesli recuperò un altro drone caduto e raccolse un po' di cibo inviato da Urbanus. Accadde poco altro fino al tardo pomeriggio, quando Mortifer uscì dalla barricata strofinandosi gli occhi ancora assonnati. Sembrava incapace di trovare una spiegazione per la scena che gli si parava davanti. I corpi trafitti di Tanner e soprattutto di lamina. Dopo aver girato intorno ai cadaveri per qualche minuto, sollevò lamina. La trasportò fino al punto dell'arena in cui giacevano Bobbin e Marcus, poi sistemò i tre cadaveri uno accanto all'altro sul terreno. Rimase per un po' a gironzolare intorno alla traversa. Poi trascinò Tanner al fianco di lamina. Nell'ora successiva raccolse prima Dill e poi Saul, aggiungendole al suo obitorio improvvisato. Jessup fu l'unico a restarne fuori. Era probabile che Mortifer avesse paura di contrarre la rabbia. Quando ebbe ordinatamente allineato gli altri, scacciò le mosche che si stavano ammassando intorno al corpo del ragazzo. Si fermò un momento, pensieroso, poi tornò indietro. Tagliò un secondo pezzo di bandiera e lo stese sui corpi, suscitando l'ennesima ondata di sdegno nella sala. Mortifer scosse lo scampolo di bandiera, che era stato di lamina, e se lo legò intorno alle spalle come un mantello. Il gesto sembrò ispirarlo. Allora cominciò a ruotare ad agio su se stesso, girando la testa per vedere se svolazzasse dietro di lui. Quindi si mise a correre, le braccia allargate, la bandiera che ondeggiava sotto il sole. Spossato dalle attività della giornata, alla fine si arrampicò sulle tribune e attese. «Oh, per amor del cielo, mandagli da mangiare, clemmi!» esclamò Festus. «Fatti gli affari tuoi!» replicò Clemenzia. «Sei insensibile!» le disse Festus. «Sono una brava amministratrice. Potrebbero essere Hunger Games molto lunghi!» Rivolse un sorriso spiacevole a Coriolanus. «Non l'ho mica abbandonato?» Coriolanus pensò quasi di invitarla alla cittadella per il suo controllo medico. A lui poteva far comodo un po' di compagnia e lei poteva andare a trovare i suoi serpenti. Arrivarono le sette, gli studenti vennero congedati e gli otto mentori rimanenti si radunarono per una cena a base di stufato di manzo e dolce. Coriolanus non poteva dire che gli mancasse Domizia e di sicuro non Cucciolo, ma gli mancava il loro ruolo di cuscinetto rispetto a gente come Clemenzia, Vipsania e Urbanus. Anche Ilarius, con le sue deplorevoli storie su cosa significasse essere un Evansby, era diventato una fonte di stress. Quando Satiria li lasciò andare, intorno alle otto, lui andò dritto alla porta, sperando non fosse troppo tardi per farsi controllare il braccio. Le guardie della cittadella lo riconobbero e, dopo aver perquisito il suo zaino, gli permisero di tenerlo con sé e di scendere fino al laboratorio senza scorta. Gironzolò un po' prima di trovare la sua destinazione, dopodiché rimase mezz'ora seduto in ambulatorio prima che arrivasse una dottoressa. La donna controllò i parametri vitali, esaminò i punti di sutura che stavano facendo il loro dovere e gli disse di aspettare. Il laboratorio traboccava di un'energia insolita, passi rapidi, voci concitate, ordini impazienti. Coriolanus stese l'orecchio al massimo, ma non riuscì a capire il motivo di tanto fermento. Sentì le parole arena e giochi più di una volta e si chiese che relazione avessero con il laboratorio. Quando finalmente comparve, la dottoressa Gol fece soltanto un controllo superficiale dei punti. «Ancora qualche giorno», confermò. «Dimmi, signor Snow, conoscevi Gaius Brin?» «Conoscevo», chiese Coriolanus, cogliendo all'istante l'uso del passato. «Lo conosco. Voglio dire, siamo compagni di classe. So che ha perso le gambe nell'arena. È... è morto?» «Complicazioni dovute alle esplosioni», lo interruppe la dottoressa Gol. «Oh no!» Coriolanus non riusciva ad assimilare la notizia. «Gaius morto! Gaius Brin!» Gli tornò in mente una barzelletta che Gaius gli aveva raccontato poco tempo prima su quanti ribelli ci volessero per allacciare una scarpa. «Non sono neppure andato a trovarlo in ospedale. Quando è il funerale?» «Lo stiamo preparando. Devi tenertelo per te finché non faremo un annuncio ufficiale», lo avvertì. «Ti sto informando adesso solo perché almeno uno di voi abbia qualcosa di sensato da dire all'Epidus. Mi auguro tu sia in grado di gestire la situazione». «Sì, certo. Sarà strano però annunciare la cosa durante i giochi. Come se fosse una vittoria per i ribelli», disse Coriolanus. «Esatto. Ma sta sicuro che ci saranno delle conseguenze. Anzi, è stata la tua ragazza darmi l'idea. Se vince, dovremo confrontare le nostre opinioni». «Ah, non ho dimenticato che mi devi ancora un tema». La donna si allontanò, chiudendosi la tenda alle spalle. Libero di andarsene, Coriolanus si abbottonò la camicia e raccolse lo zaino. Di cosa avrebbe dovuto scrivere poi? Di caos? Controllo? Contratti? Era abbastanza sicuro che cominciasse per C. Quando si avvicinò all'ascensore, si ritrovò davanti un paio di assistenti di laboratorio che tentavano di far entrare un carrello nella cabina. Sul carrello c'era la grande teca piena dei serpenti che avevano morso clemenzia. «Ha detto di portare il frigo?» chiese una delle due. «Non che io ricordi», rispose l'altra. «Pensavo che gli avessero già dato da mangiare. Sarà meglio controllare. Se ci sbagliamo, andrà fuori di testa». Si accorse di Coriolanus. «Scusa, dobbiamo fare marcia indietro». «Non c'è problema», disse lui, spostandosi in modo che potessero tirare fuori la vasca. Le porte dell'ascensore si chiusero e Coriolanus sentì il ronzio dell'ascensore che saliva. «Oh, scusa, ma vedrai che sarà qui tra un minuto», disse la seconda assistente. «Non c'è problema», ripete lui. Ma cominciava a sospettare che il problema ci fosse. È bello grosso anche. Ripensò all'agitazione nel laboratorio, all'accenno all'arena e ai giochi, alla dottoressa Goal che minacciava conseguenze. «Dove state portando questi serpenti?» chiese, con l'aria più innocente del mondo. «Oh, in un altro laboratorio», rispose una delle assistenti. Ma le colleghe si scambiarono uno sguardo. «E dai, per il frigorifero bisogna essere in due». Le donne sparirono di nuovo nel laboratorio, lasciandolo solo con la vasca. «Anzi, è stata la tua ragazza a darmi l'idea. Sua ragazza, Lucy Gray, che aveva fatto un'entrata a effetto negli Hunger Games, lasciando scivolare un serpente giù per la schiena della figlia del sindaco. Se vince, dovremo confrontare le nostre opinioni». Opinioni su cosa? Sull'uso dei serpenti come arma. Fissò i rettili che si muovevano sinuosi e li immaginò liberi nell'arena. «Cosa avrebbero fatto? Si sarebbero nascosti? Avrebbero cacciato? Attaccato?» Anche se ne avesse conosciuto il comportamento, dubitava che quelli si sarebbero attenuti alle regole, visto che erano geneticamente progettati dalla dottoressa Goal. Con una sofferenza acuta, Coriolanus rivide Lucy Gray nel loro ultimo incontro. La sentì stringergli forte la mano mentre le garantiva che avevano la possibilità di vincere. Ma lui non poteva proteggerla dalle creature contenute in quella vasca, non più di quanto potesse proteggerla da spade e tre denti. Però da quelli era in grado di nascondersi lei stessa. Coriolanus non ne era certissimo, ma supponeva che i serpenti si sarebbero diretti subito ai tunnel. Il buio non avrebbe compromesso il loro olfatto. Non avrebbero riconosciuto l'odore di Lucy Gray, proprio come non avevano riconosciuto quello di Clemenzia. Lucy Gray avrebbe urlato e sarebbe caduta a terra, le labbra che si facevano viola, poi esangui, mentre il pus nei toni accesi del rosa, del blu e del giallo le colava sul vestito a balze. Ecco, ecco cosa gli avevano ricordato i serpenti la prima volta che li aveva visti. Erano uguali al vestito di Lucy Gray. Quasi fossero sempre stati il suo destino. Senza sapere esattamente come, Coriolanus si ritrovò al fazzoletto in mano, ben appallottolato come un oggetto di scena in uno dei trucchi di magia di Lucky. Si mosse verso la teca, la schiena alla videocamera di sicurezza, e si sporse in avanti con le mani appoggiate sul coperchio, come se fosse affascinato dai serpenti. Poi rimase a guardare il fazzoletto che cadeva dallo sportello in cima e spariva sotto l'arco.